Un altro aspetto importante nel suo breve intervento, ma ci sarà tempo per parlare di grosse questioni, questo lo dico a beneficio dei nostri telespettatori che presto arriveremo, come si dice, al nocciolo della questione. Lui diceva che si va avanti a colpi di numeri, c'è questa maggioranza davvero larga, forte, robusta, che poi alla fine incide, fa prevalere questa forza, quando invece, si intuiva dall'intervento di Ialacqua, dovrebbe prestare più ascolto a chi magari propone, a chi magari vuole spazio nell'interesse della città migliore. Ma sì, assolutamente, anche perché questa maggioranza dei numeri, noi la dobbiamo spiegare bene, noi oggi abbiamo un'aggiunta assolutamente monocolore, e quindi questo già, secondo me, nella democrazia non va mai bene. Abbiamo una maggioranza fatta da 18 consiglieri del Movimento 5 Stelle, che però non rispecchia la vera rappresentatività della città, perché noi dobbiamo ricordare e anche spiegare meglio che il sindaco Piccitto ha vinto al ballottaggio, è stato un voto di protesta, c'era l'onda, quindi va bene così, ma il sindaco Piccitto, in effetti il Movimento 5 Stelle, che ha riportato il 9% circa, oggi si ritrova 18 consiglieri che hanno una rappresentatività popolare molto ma molto ridotta, a fronte di una minoranza fatta da 10 delle opposizioni, i due movimenti che hanno partecipato all'elezione del sindaco Piccitto, che abbiamo tutti insieme una rappresentanza dell'88%, e allora è chiaro che far prevalere i numeri, soprattutto in una situazione del genere, è davvero come minimo molto arrogante. Cioè dire non riuscire a tenere conto di una proposta, eppure ne abbiamo fatte, ma anche quando solleviamo le problematiche, le interrogazioni, è chiaro che sto esercitando la mia funzione di controllo. Il Consiglio Comunale che capisce che ha una rappresentanza che non veste di gloria, non veste di gloria e soprattutto non deve vestire di onnipotenza, dovrebbe essere più attenta a quello che diciamo. E peraltro tutto questo non lo vediamo soltanto fra opposizioni e maggioranza. Io sono convinta che esiste uno scollamento importante anche fra la maggioranza consigliare e la Giunta, perché moltissimi consiglieri non hanno contezza di quello che fa la Giunta. Questo lo sentiamo, lo capiamo, tanti consiglieri a volte escono dall'aula perché si trovano a disagio, quindi non c'è questa interazione costruttiva che ci dovrebbe essere fra l'intero Consiglio Comunale e l'amministrazione. Non la vedo assolutamente e penso sia un male questo. Stasera volevamo dare anche spazio a qualcuno dei grillini, sono state fatte un giro di telefonate, però voglio dire con risultati negativi. Vabbè, questo perché il telespettatore capisca che poi magari in realtà abbiamo come dire aperto anche a chi oggi va a occupare gli scranni della maggioranza. Movimento Città, rispetto a questa amministrazione, rispetto all'agire, inizialmente e oggi c'è una differenza? Cioè è mutato qualcosa rispetto all'insediamento di dieci mesi fa e oggi? Giala qua. Allora, qui abbiamo avuto modo con questa stessa tv di parlarne a settembre scorso. Insomma, diciamo che per molti di noi, per molti gruppi, le elezioni non sono andate esattamente come si era previsto, ma anzi, diciamo, alla fine abbiamo avuto dei risultati che ci hanno fortemente penalizzato in termini numerici. Noi abbiamo avuto la terza vista in città come numero di soffragi e alla fine ci ritroviamo con un solo consigliere, insomma io. Mentre invece una quarta lista ha 18 consiglieri. E il meccanismo però che tutti conoscevamo, e qui mi permetto serenamente di fare un appunto alla collega, nel senso che sapevamo tutti che purtroppo sarebbe andato a finire così. Sarebbe andato a finire così. Ora così non ci siamo, però voglio dire... Noi ci saremmo immaginati, indubbiamente, una compartecipazione e soprattutto un apparentamento tecnico, il che vuol dire che insomma avremmo avuto quei 18 consiglieri suddivisi tra i tre gruppi che in qualche modo appoggiavano la candidatura piccitto. Non si è realizzato come tutti ben sanno questo accordo, noi abbiamo deciso lo stesso perché puntavamo al risultato di rinnovare il quadro politico, abbiamo deciso di puntare lo stesso sul piccitto. Successivamente si sa pure che ci sono stati degli incontri per poter trovare il modo anche di esercitare un peso politico all'interno di questa giunta, perché questi accordi, questi incontri non sono andati, non ci sono stati accordi, attenzione, ma ci sono stati degli incontri. Oggi io mi ritrovo un po' schiacciato perché faccio un altro simpatico appunto, intanto le opposizioni sono variegate, loro stesse diciamo, forse un giorno bisognerà anche variegare l'altro fronte, però non tutti affrontano la dialettica argomentativa alla maniera della consigliera Migliore o di qualcun altro. Spesso nascono provocazioni, spesso volano straccetti in aria e tutto questo secondo me non aiuta. Io mi sarei anche aspettato un contributo pure da consiglieri di opposizione di diversa natura. Io ho l'impressione che ancora siamo in un clima elettorale, ho questa brutta impressione di chiusura e anche di mancanza di accettazione. Ho sentito l'attolta una battuta di un consigliere che è rivolto ai consiglieri dei Cinque Stelle e diceva che loro erano stati nominati ma non erano stati eletti. E' una brutta cosa da dire perché le regole erano queste. Certo, esercitare ora un ruolo che sia come quello che vogliamo fare noi, cioè riflessivo ma al tempo stesso non è né di maggioranza né di opposizione, diventa molto difficile con questi numeri. Oggi dunque, come dire, si è più con un piede sul fronte di chi fa opposizione. Cioè, capisco, il suo passaggio va bene, è stato interpretato perfettamente da tutti anche a casa. Ma, come dire, andate avanti a piccoli passi e a piccoli passi decidete sul da farsi, cioè per capire in maniera... Avete perfettamente ragione, il nostro imbarazzo deriva da questo. Io, guardi, non ho nessuna difficoltà a dire che ho creduto e credo in questa prospettiva che sia aperta nuova per la città. Non ho un giudizio totalmente negativo di quello che il voto delle urne ha portato in città. C'è stata una città che per il 70%, almeno per la metà di coloro che hanno votato, questo è anche importante ricordarlo, per il 70% ha dato fiducia a questo sindaco. Quindi è un voto quasi prebiscitario per una prospettiva di rinnovamento. Questo non si può scordare. A quella prospettiva di rinnovamento per anni aveva partecipato con la sua posizione in Movimento Città. Oggi noi ci troviamo davanti a una politica della città molto poco chiara, nel senso che non vediamo dove portano questi passi. Cioè non vediamo un disegno unico, una strategia, una visione. Però ci sono tanti punti in comune che ancora restano di prospettiva politica. Ora, il problema indubbiamente è questo. Noi vorremmo che fosse chiaro qual è la visione generale di questa città, il progetto per questa città, da qua a 5, 7, 10 anni. Oramai si deve ragionare in questi termini. La prossima tornata di fondi strutturali sarà 2014-2020, cioè a cavallo di due possibili amministrazioni. Noi o riusciamo ora a progettare una città per questi 7 anni, oppure obiettivamente restiamo fuori dalle linee di intervento e quindi di finanziamento più importanti. Considerate che c'è una grossa crisi economica di tutti gli enti locali. Lanci diceva che addirittura 200 comuni sui 390 siciliani rischiavano di chiudere in forte passivo quest'anno i propri bilanci se la Regione non avesse fatto quei passi che poi ha fatto di ulteriori trasferimenti. Quindi la situazione è drammatica. Se noi non riusciamo ad attingere ad altro, quindi fondi strutturali, se poi non riusciamo a mettere su delle politiche di riecupera dell'evasione, di rilancio per esempio di certi settori economici, di nuova fiscalità, eccetera, e anche di amministrazione della macchina comunale, diversa noi qui rischiamo di perdere dei grossi appuntamenti. Ecco, su queste cose, scusi se mi dilungo, ma chiudo subito, su queste cose io capisco che magari il cittadino vorrebbe avere una posizione più netta, sì o no, noi siamo per costruire una prospettiva per la città e inseghiamo sui singoli atti. Oggi dicevo che io mi permetto ora di inseguire l'amministrazione su un disegno, cioè noi vogliamo capire esattamente che progetto c'è per questa città. Questo progetto va costruito tutti assieme, al di là anche delle maggioranze costituite. Non mi sento comunque, escludo al momento un'opposizione pregiudiziale anti, perché quello è il quadro di riferimento entro il quale io devo esercitare un mio ruolo che può essere anche di critica e di proposizione. Meritava certamente più spazio.